Musica Amici sportivi buonasera e ben ritrovati con gioco di squadra. Ritiro ormai agli sgoccioli, penultimo giorno di lavoro a Roccaraso per il Bari. Intanto questo pomeriggio è stato ufficializzato il rinnovo fino a giugno 2025 per il tecnico Mignani e per il suo staff. In studio con me questa sera Roberto Maffei, voce del tifo Biancorosso. Ben ritrovato Roberto. E ovviamente per tutti i vostri messaggi dal web la nostra Jessica Ramos. Buonasera. Buonasera a tutti. Collegato da Roccaraso c'è sempre il nostro Cristian Siciliani. Penultimo giorno anche per te Cristian, poi si torna dai. Ciao ciao Michele, buonasera. Ho perso il collegamento audio con voi. Oggi chiudiamo con il botto perché aspettiamo qui nei nostri studi a Roccaraso Jeremie Menez. A tra poco avremo modo di chiacchierare con lui. Insomma Roberto chiudiamo con il calciatore più rappresentativo arrivato fin qui. in questo momento per quanto riguarda il calciomercato? Beh, di questo calciatore l'unica incognita è l'età, anche se negli ultimi anni abbiamo assistito a cominciare da Brienza. Se vogliamo forse solo il centrocampista che poi è andato al Taranto, aiutami. Di Gennaro. Di Gennaro, solo di Gennaro non è stato tra virgolette rigenerato dall'area di Bari. Quindi auguriamoci che succeda anche questa volta che avvenga questo miracolo. Però è evidente che da tifoso, sicuramente interpretando anche l'animo di tanti tifosi, sono molto ancora, non dico preoccupato, ma incuriosito di quale coniglio tirerà fuori dal cilindro Polito. Polito ci ha abituato a fare le cose tardi, però forse ne mancavano un paio, qui ne mancano 4-5 almeno, di cui almeno 3 di assoluto spessore. Quindi un po' di preoccupazione c'è. Però speriamo che l'età di Menez sia come quella di Valerio Di Cesare, sia come quella di tanti altri, perché poi Di Cesare porta la bandiera e nasconde altri vecchietti niente male. Però diciamo così, Menez è più un calciatore offensivo, quindi qualcuno che deve saltare l'uomo, caratteristiche diverse, serve correre di più. Correre di più, oppure torniamo alla delusione al momento, alla delusione del mercato, oppure avere giocatori da servire di grande riferimento e quindi magari un bomber, a me Nass ti piace tantissimo, però un bomber vero che magari i piedi buoni alla Menez possano essere poi finalizzati. Quindi è chiaro che tutto va in funzione alla chiusura di questo mercato, che sicuramente sarà più importante dell'apertura, come ormai ci hanno abituato Polito e la proprietà. Però quest'anno sono un po' più preoccupato, perché in cantiere c'è ancora molto, molto poco. Eh sì, tra poco ci colleghiamo con Cristian Siciliani e Geremì Menez, anche per ascoltare le sue parole ai nostri microfoni. Qualcosina l'aveva detta anche, diciamo così, nei video realizzati dalla SSC Bari, un calciatore che ha detto l'Italia è la mia seconda patria, perché ovviamente ha trascorso tanto tempo, tra Roma, Milan. Comunque è un calciatore che ha avuto una carriera davvero importante, Menez. Poi è uno che, cioè non è che si fa picchiare, è un caratterino niente male, si fa rispettare in campo, sembra quasi un argentino a livello caratteriale, mentre poi coi piedi è qualcosa di fantastico. E allora, non so se siamo pronti, non so Cristian se riesci a sentirmi in questo momento, forse dobbiamo cercare di ripristinare l'audio con Roccaraso, anche per sentire poi le parole di Geremì Menez. Jessica, vengo da te, se c'è al volo qualche messaggio o qualcosina da mandare. Ci sono tantissimi messaggi, tra l'altro Menez comunque ha, diciamo, un compito molto importante anche per quanto riguarda i tifosi biancorossi, perché dicono che lui è il sostituto appunto di Antenucci, quindi molti dicono di onorare questa maglia e di prendere... Perché potrebbe prendere il numero 7, potrebbe reeditare il numero 7, sì, da Mirko Antenucci, però un calciatore anche, se vogliamo, diverso come caratteristiche da Mirko Antenucci, perché Menez può fare anche il trequartista, volendo può anche allargarsi a destra. Diciamo che in Serie B uno come Menez, se sta bene, può fare assolutamente quello che vuole. È uno di quei calciatori che se l'allenatore lo ritiene titolare, gli dà la maglia e adatta il resto della squadra intorno a lui, perché i piedi sono qualcosa di fantastico. Lui è stato in Italia nel momento in cui c'erano tanti altri campioni, dai nomi un po', ma lui ha fatto delle giocate, dei numeri di livello spaziale e qui siamo nelle mani sue e del professore Durbano, perché poi non dimentichiamo, l'ho detto la volta scorsa, questa figura di preparatore atletico è decisiva e ovviamente ancora di più quando i calciatori sono avanti un po' negli anni. Ci ricordiamo anche quel gol segnato con il Parma, indossava la maglia del Milan, Menez, di tacco, un colpo di classe assoluto. Quasi come quello di Bergossi. Purtroppo io non l'ho potuto ammirare, però va bene così. Forse non siamo ancora pronti per collegarci con Roccaraso, non siamo ancora pronti, qualche minuto ancora. Insomma, Roberto, ti chiedo anche un tuo pensiero, ormai siamo alla fine di questo ritiro, un tuo pensiero su come sono andate queste due settimane, è chiaro che pochi colpi di scena ci sono stati. Io penso che saranno servite semplicemente ad affiatare i ragazzi, a dare al professore la possibilità di vedere i livelli e tutte quelle misurazioni che oggi fanno, che sono proprio scientifiche sui calciatori. Ovviamente ormai sono anni che le squadre, al di là del Bari, le squadre non sono in ritiro complete, spesso ci sono 4-5 elementi che poi vanno via, che sono in ritiro. Diciamo che anche le preparazioni atletiche oggi sono quasi tutte uguali, uniformate, e quindi anche chi arriverà o chi andrà via, bene o male si prepara. Quello che dispiace è non poter preparare la fase tattica, già dall'inizio, ma diciamo che il ritiro, la fase tattica è ancora abbastanza embrionale. Diciamo che da questo momento in poi io mi auguro che nella settimana prossima quei 4-5 acquisti di cui ritengo 3 titolari, ecco per capirci, poi il calcio ti insegna che il titolare finisce in panchina e dalla panchina magari ti viene la sorpresa del campionato. Però 3 pseudo titolari mancano e almeno un paio di rincalzi, ma in modo assoluto. Non si possono fare altri miracoli. Sì, il miracolo può essere il ragazzino, ma non lo devi contare quando parti per andare, come dice il Presidente, per fare i play-off, che significa farli per andare in Serie A. Quest'anno li abbiamo fatti, non ce neanche ci volevamo andare in Serie A, ma non era l'obiettivo prefisso. Certo, eravamo lì. Io resto nel mio parere che quell'uscita mi fa diminuire il rammarico di aver visto un grandissimo portiere a Bari, ma poi l'uscita finale mi toglie un po' di rammarico. E ripeto quello che ti ho detto prima, non mi ricordo nessuna squadra di Serie B che si è andata in Serie A di cui noi, tifosi, ricordiamo in particolare il portiere. Si va in Serie A con i gol, con Menez, non con i portieri. Si va con i gol, il portiere, diciamo così, è diventato anche il ruolo sacrificabile per far cassa, l'abbiamo visto in Serie A anche con l'Inter, insomma il portiere si può cedere. Io riguardo questa una foto molto divertente di Nicola Solazzo, riguardo al portiere, che dice in esclusiva la foto del nuovo portiere del Bari. Beh, è ordinato. Quindi a me ha fatto ridere, giusto un po' di colore, un po' di ridere. Ci sta, la battuta ci sta. Questa situazione. Ci sta sempre. Purtroppo la piazza è in sofferenza. Cioè, non ci nascondiamo dietro un dito. Probabilmente chi è un po' più grande, chi è un po' più esperto, la vive. Cioè, se io adesso avessi 30 anni in meno, sarei preoccupatissimo e probabilmente sarei tra quelli che, allora non si iscriveva sui social, che fomenterebbe la delusione, la multiproprietà, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, forse, dopo averne visto di tutti i colori, forse sono tristemente, mi accontento che siano stati pagati tutti gli stipendi, tutte le tasse, tutto l'IRPEF, eccetera, eccetera. Eh sì, è così. Intanto no, non siamo forse ancora in grado di collegarci con Cristian Siciliani da Roccaraso. Io volevo chiederti anche, Roberto, il tuo punto di vista su quella che è stata poi una delle, come dire, immagini che hanno diviso molto la tifoseria. Il presidente Luigi De Laurentiis ha colloquio con un tifoso a Roccaraso, il tifoso faceva legittime richieste di mercato, il presidente ha risposto un po' con ironia. Ti chiedo il tuo punto di vista. Allora, se, io non l'ho visto, però lui ha detto non possiamo più mica prendere Messi, no? In questo momento il problema vero, ora tentiamo un po' di allargare, il problema vero è che Messi non può prendere nessuno, in Italia, non lo può prendere nessuno in Europa. Roberto, scusami se ti interrompo, magari lo riprendiamo nella seconda parte questo discorso, perché forse ci siamo, ci siamo con Cristian Siciliani e Jeremie Menez. Buonasera. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Eccoci, adesso ci siamo Cristian, possiamo cominciare la nostra chiacchierata con Jeremie. Ci siamo, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, soprattutto chiudiamo con il botto, chiudiamo con un campionissimo come Jeremie Menez. Ti chiedo subito, Jeremie, come stai, soprattutto come procede l'inserimento, il tuo inserimento nel mondo Bari? Beh, direi alla grande, cioè mi sento veramente bene, a parte la botta che ho preso la settimana scorsa, che mi dà un po' di fastidio, però a livello di gruppo, di squadra, di ambiente, mi sento veramente benissimo, quindi sono felice. Mi racconti anche qualche retroscena della trattativa che ti ha portato qui a Bari? Allora, io sinceramente ero a casa e c'è Manu Teranova che mi ha chiamato per dirmi che il direttore voleva parlare con me, quindi gli ho detto, sì, non ci sono problemi, tanto io sono a casa in vacanza, quindi possiamo parlare insieme. Poi mi ha chiamato e mi ha chiesto di fare un appuntamento a Milano con lui e ci siamo visti per un'ora, un'ora e mezza e da là poi c'è partita la trattativa e poi una settimana dopo ci siamo messi d'accordo. Jeremy, quali cordi ha toccato il direttore sportivo Ciro Polito per convincerti a venire qui a Bari? Allora, io sinceramente, cioè io sono una persona, cioè molto normale, quindi sull'aspetto, cioè io accordo di portanza sul fatto umano, sul rispetto della gente, e con lui ho sentito subito questo, cioè ho sentito che comunque c'era questo rapporto umano e come l'ho detto prima, dopo questo appuntamento ho avuto la sensazione che questo posto, questa città, questa squadra è il posto giusto per me, per stare bene, per essere felice. A 36 anni, che sfida è per Menez Bari? Io ancora sinceramente mi sento benissimo, ti dico la verità, quindi c'è l'età per me, c'è non conta per me, quindi è una sfida bellissima, perché comunque Bari è un club storico, c'è una bella storia, c'è una bella storia, quindi poi dopo la stagione dell'anno scorso sicuramente ci saranno delle aspettative molto importanti, però non ci dobbiamo prendere, come dirti, non dobbiamo essere presuntuosi? No, pressato dal compionato dell'anno scorso, perché comunque il calcio è così, da un giorno all'altro hai vinto ieri, ma domani devi vincere ancora, quindi tocca a noi di partire sulla base che aveva il Bari l'anno scorso e fare ancora di più, perché sarà più difficile quest'anno. Studio. Sì Geremi, ti chiedo, al di là delle parole del direttore sportivo Ciro Polito, cos'altro ti ha spinto ad accettare Bari? Non so, magari in quel periodo avevi altre offerte, cosa ti ha spinto ad accettare Bari come destinazione? Sinceramente poi da quando ho saputo del Bari ho chiamato Nicola Bellomo perché abbiamo giocato insieme per due anni alla Regina e mi ha parlato benissimo della città, di tutto e poi il Bari lo conoscono tutti, quindi non so, poi a pelle ho sentito che era la sfida giusta per me. Un'ora e mezza con Polito deve essere dura e quindi l'ha dovuto accettare. No, mi ricordo di te una grande cattiveria che non è tipica dei fuoriclasse, invece tu sei uno che sei molto cattivo in campo pur essendo un grande fuoriclasse. Mi ricordo che restituiva tutti i colpi, oggi col Varby bisogna stare un po' attenti ma era uno di un grande fuoriclasse ma tostissimo, temuto dai suoi marcatori. Ancora così? Direi che ho un po' di carattere, sì, ho un po' di carattere perché comunque per fare una carriera hai bisogno di avere un carattere forte e io sono ancora così, sono nato così e sarò così fino alla fine. Jessica, vengo da te per i messaggi da parte dei nostri tifosi. Sì, Jeremy, tanti messaggi per te, per esempio Alex Mattia ti chiede dato il tuo rapporto con Bellomo ti ha già insegnato qualche parola in dialetto? Sei pronto per venire qui a Bari e capire come parlano qua i baresi? Proverò piano piano a capire un po' il dialetto però ce lo vedo è un po' ancora per me però ci proverò. Una parolina non te l'ha insegnata? ancora no, ancora no l'aspettiamo. Jessica, altri messaggi? Sì, tantissimi messaggi. La piazza aspetta da te che tu faccia tanti gol. Tu ti sei posto qualche obiettivo riguardo al numero di gol che vuoi fare? se ti sei posto un obiettivo come gol da realizzare? sinceramente no perché io non ho mai pensato a fare tanti gol io sono uno che cerca di fare la differenza tra gli assist e i gol però non mi sono mai fissato a dire farò 15 gol 20 gol perché poi dopo pensare troppo a questa cosa poi diventa poi magari non giochi più naturalmente quindi no proverò a dare il massimo a divertire la gente e soprattutto avere risultati positivi e speriamo meglio dell'anno scorso che sarebbe tanta roba diciamo. vorrebbe dire promozioni in Serie A Jeremy hai giocato in stati importanti di storia di prestigio quanto ti affascina anche giocare al San Nicola? sinceramente non vedo l'ora e anche questo secondo me ha pesato anche nella decisione di venire al Bari ti dico la verità perché giocare a calcio nei stati così non c'è cosa più bella quindi non vedo l'ora di iniziare il campionato e soprattutto a casa nostra Roberto hai sentito? sì ha ragione perché nelle ultime due partite dell'anno scorso di cui una delle due con il Sud Tirol quindi sicuramente non con uno squadrone abbiamo fatto 110.000 tifosi ufficiali e sono testimone di alcune migliaia di tifosi ufficiosi quindi abbiamo raggiunto livelli da Champions League che lui conosce bene e che merita di ripetere peraltro lo vedo in grande forma e soprattutto più allegro perché a Reggio Calabria l'ho visto un po' perché io vado subito a vedere le immagini sono abbastanza fan sono un po' tifoso e si era un po' entristito in questo senso Bari ti darà tanta allegria guarda è una città che mette allegria ti ha fatto subito ritrovare la voglia ma sinceramente sinceramente come ti posso dire sono stato tre anni un po' difficile ti dico la verità non ero non ero felicissimo e si vedeva anche secondo me c'è in campo e anche fuori dal campo e ti dico la verità che dopo già una settimana mi sento benissimo fisicamente ancora no però a livello personale a livello umano mi sento molto felice quindi secondo me ci aspetta una bella stagione Senti nel calcio di Mignani Menez dove pensa di poter esprimere meglio il suo calcio? Ma io posso giocare ovunque ti dico la verità quando quando sarò bene fisicamente poi posso giocare ovunque mi metterò a disposizione del mister con con tranquillità Genio in campo fuori dal campo come Menez molto tranquillo io mi alleno sto a casa sono io passo molto tempo a casa quindi è normale poi ogni tanto vado al ristorante esco ma delle cose normali Senti in campo reciterai da leader ci aspettiamo anche questo da Menez Ma leader viene naturalmente io cercherò di aiutare i compagni di dare una mano magari anche ai giovani e leader lo farò lo sarò naturalmente quindi non è che mi metto in testa devo essere leader o qualcosa no cercherò di fare il massimo e poi qualche consiglio che posso dare se hanno bisogno se servono se mi chiedono sarò il primo a farlo A Schiedler tuo co-nazionale stai dando qualche consiglio sai che per lui è una stagione importante dopo un primo anno di apprendistato in Italia arrivare in Italia il primo anno non è mai facile perché io l'ho vissuto avevo 21 anni ero a Roma e ce l'ho vissuto quindi non è mai facile soprattutto per la lingua non capisci bene tutto quindi non è facile cercherò anche su questo aspetto di aiutarlo perché può dare tantissimo è un giocatore forte e ha bisogno secondo me soltanto di un po' di fiducia di stare bene ma lo vedo lo vedo benissimo quindi piano piano si adatterà benissimo Tanti messaggi dei tifosi più ancorosi per te Menez torno in studio Jessica un altro messaggio al volo per Jeremy si preoccupano per te per come ti adatterai qui alla città soprattutto al cibo tu sei di buon palato sei buon gustaglio perché qua le pietanze sono tante e molto buone quindi sei pronto magari per una dieta anche di focaccia riso patate cozze orecchiette con le cime di rape hai mai assaggiato qualcuna di queste pietanze? no ancora no ancora no però infatti io sul peso devo stare molto attento quindi magari dopo la partita faremo una bella mangiata però la settimana piano piano perché io poi prendo facilmente quindi tranquillo Sianza Nicola vorranno vedere presto le tue le tue magie le tue giocate il tuo estro la tua fantasia questo non stimola in più a far bene soprattutto no il manifesto della tua carriera è quel gol di tacco in quel famoso Milan Parma sì sì ma il mio cioè le mie qualità sono questi sono uno che prova a fare la differenza che fa delle cose che neanche due secondi prima pensava di fare e io sono fatto così quindi quindi come l'ho detto prima adesso è il periodo un po' di di lavoro fisico e appena sarò bene fisicamente ci divertiremo tutti insieme tu spesso hai detto in carriera potevo fare di più perché non ho avuto voglia quella voglia che magari non ti ha fatto raggiungere livelli altissimi rispetto poi a quello che è il tuo grandissimo talento allora ti dico dopo il dopo il Milan ho vissuto un periodo di due tre anni non benissimo a livello personale e quindi questo fatto ha giocato tantissimo su questo ti dico la verità e poi dopo questi anni ho ritrovato questa voglia e poi sono arrivato a Reggio periodo un po' non benissimo perché poi presidente si cambia presidente poi mi dispiace anche per i tifosi per la gente della regina perché comunque loro ci vivono per il caccio quindi mi dispiace anche per loro comunque è sempre una questione di voglia di voglia nonostante la presenza anche poi di un allenatore che conoscevi bene a Reggio come Inzaghi si con Inzaghi e anche quando è arrivato Stellone ho ritrovato questa voglia di giocare di divertirmi e quindi da quando è arrivato Stellone e poi Inzaghi ho ritrovato questa voglia e oggi sono contento di essere qua mi sento in forma e come l'ho detto prima sono sicuro che ci divertiremo Noi non vediamo l'ora di vederti in campo Jeremy intanto quella è la tua telecamera lascia un messaggio ai tuoi nuovi tifosi Allora ciao a tutti ancora non ci siamo visti ci vedremo presto non vedo l'ora di iniziare di fare il primo gol sotto la curva a Blasio Grande ciao ci vediamo presto un grazie un grazie a Jeremy Menez e un grosso in bocca al lupo Jeremy per questa stagione in bianco rosso grazie ciao Jeremy ciao a tutti perfetto un grazie simpaticissimo Jeremy Menez noi andiamo in pausa pubblicitaria poi di nuovo insieme con la seconda parte di gioco di squadra rieccoci insieme seconda parte di gioco di squadra Roberto vengo subito da te che impressione ti ha fatto Jeremy Menez siamo reduci da una bella chiacchierata con l'attaccante francese allegro allegro a quell'età è fondamentale allegro non ha ancora visto la città Bari è una città da questo punto di vista ne abbiamo esempi a bizzeffe di calciatori che sono rimasti o con il cuore o proprio anche con il corpo qui vivono benissimo quindi a quell'età è importante essere allegri felice l'ha detto il termine felice l'ho usato più volte e mi ha svelato anche un arcano che io mi portavo avanti da tanto tempo come mai un fuoriclasse di quel livello si fosse un po' perso e mi sembra chiaramente che abbia parlato di un momento no voglio dire probabilmente ha un carattere che si esalta e si abbatte allo stesso tempo perché non si spiega perché quel gol di Tacco è famoso perché è un gol ma di quella roba lui in campo ne faceva decine a partita infatti i tifosi comunque stanno dicendo gli stanno dicendo a lui preparati perché sicuramente vuoi dare la magliette lo riceverai dappertutto questo è un classico questo è un classico no Cristian Geremì Menezza ha ritrovato il sorriso da quando è in ritiro con il Bari l'abbiamo visto sì sì davvero è uno di quei calciatori che può infiammare il San Nicola questo è sicuro e dobbiamo dobbiamo coccolarlo lui si vede ha iniziato con gran voglia con grande determinazione ha un carattere particolare però è uno di quei calciatori che davvero può far innamorare il tifoso del Bari e ce l'auguriamo perché è uno di quei calciatori che fa la differenza io li ho visto fare anche qui in allenamento delle cose pazzesche con il pallone cose che gli altri non vedono e non pensano soprattutto Cristian oggi soltanto seduta pomeridiana per quanto riguarda il Bari poi nel pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità del rinnovo di Mignani e del suo staff sì Mignani e tutto il suo staff sino a giugno 2025 una seduta pomeridiana con Menez che comunque ha lavorato con il gruppo non lo ha fatto Zuzek che sta ancora svolgendo un lavoro individuale mentre Nicola Belloma ha subito una botta al polpaccio ed è uscito anzitempo alla seduta ha assistito anche il direttore sportivo giropolito intanto lo vediamo e Geremio Menez che di fatto sta recuperando da una botta la schiena però oggi ha giocato anche l'intera partitella dunque è pronto per mettersi al passo con i suoi compagni e poi domani ci sarà la chiusura di questo ritiro con la squadra che farà di fatto una partitella in famiglia alle ore 11 qui allo stadio comunale di Roccaraso dopo il divieto dell'amichevole contro la Juve Stabia per questioni di ordine pubblico non si è trovata una squadra all'altezza e dunque il Bari ritiene più allenante una sfida in famiglia quindi domani assisteremo a questa partitella in attesa che venga completato l'organico e tra poco parleremo anche di di calciomercato eh sì intanto Cristian questo pomeriggio avete anche intervistato Gigi Frattali perché noi siamo sempre in attesa insomma di novità per quanto riguarda il ruolo di portiere però Gigi c'è sempre allora ascoltiamo la sua intervista no vabbè sicuramente numericamente vista la cessione di Elia a cui faccio un grande in bocca al lupo e lo sento spesso e numericamente ne manca uno quindi lo aspettiamo braccia aperte per lavorare insieme sicuramente arriverà nei prossimi giorni l'anno scorso è finita con una delusione importante non lo nascondo personalmente sono stato male dieci giorni ci ho messo tanto a riprendermi perché comunque penso che avremmo meritato tutti quanti la massima serie sono convinto che faremo una bella stagione e siamo carichi come non mai hai fatto l'in bocca al lupo a Delia Caprile hai condiviso la sua scelta di cimentarsi subito con la massima serie l'anno scorso ha fatto una grande stagione io lo sento quasi tutti i giorni perché abbiamo un grande rapporto e quelle sono scelte personali sicuramente quando uno ha l'opportunità di giocare in serie A è difficile rifiutarla poi comunque è andata una società ambiziosa ma che allo stesso tempo lo può far crescere come Empoli e penso che abbia fatto la scelta giusta guarda questo è il mio ventunesimo ritiro da professionista quindi non è il primo e ti dico che è vero il ritiro è molto importante sono d'accordo con te però è anche vero che in questi ultimi anni io ricordo il primo anno del mister dove a Storo mi sembra abbiamo vissuto insomma un ritiro praticamente chiuso in stanza allenandoci individualmente con a disposizione dieci giocatori e poi alla fine abbiamo visto come è andato il campionato comunque c'è già una buona base perché molti giocatori dello scorso anno sono rimasti sappiamo il direttore come lavora e penso che non vi ha mai deluso quindi sicuramente arriveranno altri giocatori forti sono convinto che anche quest'anno avremo una squadra di tutto rispetto che possa giocarsi le proprie carte e allora queste le parole di Gigi Frattali Roberto puoi commentare qualcosa persona molto seria anche in questo caso pur essendo partito Caprile sa di dover fare da supporto ad un ulteriore nuovo portiere e vabbè che sia una persona seria invece no ma volevo tornare sull'ora e mezza di chiacchierata che pagherei per poter sentire ascoltare tra Polito e Menez cioè cosa fa perché è evidente che Polito al di là di Schiedler che è ancora evidentemente il punto nero del suo operato per il resto non ne ha sbagliata una ma soprattutto in termini di motivazione quindi sono io sono vi racconto un piccolo episodio sono andato a vedere un concerto a Milano e quando sono tornato a dormire in albergo morto tardi c'era Polito e io tentavo come un bambino alla veneranda età di 58 anni di origliare qualcosa della chiacchierata che stava facendo per capire ma purtroppo le mie orecchie non sono più quelle di un ragazzino non sono riuscito a capire ma parlava con un signore robusto e dettava legge ugualmente ma non sono riuscito a capire poi un giorno glielo chiederò chi era Cristian vedo che puoi aggiungere qualcosa sì Cristian volevo aggiungere perché Roberto ha parlato di questa chiacchierata con Menez lo stesso effetto il direttore sportivo Polito l'ha avuto con Marco Nassil giovane attaccante prelevato dal Milan perché le richieste erano tante però dopo un colloquio tra Nasti e Polito il giocatore non ha avuto dubbi ha detto vengo a Bari quindi questo la dice tutta su quanto poi Polito riesca a far presa sui calciatori già che sei lì chiedi ai calciatori per esempio a Nasti ma lo fa con una lampada piazzata nel muro tipo interrogatore oppure in condizioni favorevoli perché io vedo che gli effetti sono molto positivi è vero è vero hai tutti paura avrai i suoi metodi avrai i suoi metodi timore di Polito un timore rivene Jessica volevi sì leggerci qualcosa sì c'è un messaggio c'è stata una richiesta fatta dall'associazione Bari in testa che chiede alla SSC Bari di prorogare il termine previsto per il 31-7 riguardo all'imminente scadenza della scontistica sul rinnovo degli abbonamenti in modo tale da consentire ai vecchi abbonati di usufruire della formula rinnovo anche successivamente oppure in alternativa fare i 5 acquisti subito o uno o l'altro ebbene insomma vai tu basta che insomma va bene così Christian no lo dico lunedisca della promo rinnovo quindi giriamo comunque questa richiesta dell'associazione Bari in testa anche al Bari vediamo se in qualche modo ci si può venire incontro va bene va bene vediamo vediamo cosa sarà noi andiamo ancora in pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme con la terza ed ultima parte di gioco di squadra ovviamente cercheremo ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato tra poco rieccoci insieme terza ed ultima parte di gioco di squadra in studio come sempre Roberto Maffei e Jessica Ramos e allora Christian novità di mercato vogliamo partire come ieri dalla querelle portiere eh sì perché di fatto si è riaperta la trattativa per il portiere brasiliano Brenno che di fatto è la prima scelta per la porta di Ciropolito nei giorni scorsi il gremio aveva di fatto cercato di cambiare i termini dell'accordo chiedendo al Bari un esborso maggiore per quanto riguarda il prestito oneroso e questo aveva un po' indispettito il nostro direttore sportivo la trattativa è ripresa il procuratore del portiere brasiliano è da ieri in Italia assistito comunque da un intermediario italiano e si sta cercando in qualche modo di trovare una soluzione sempre con un prestito oneroso con diritto di riscatto non c'è un problema di passaporto perché da questo punto di vista ci hanno rassicurato il portiere al passaporto comunitario quantomeno i documenti sono pronti quindi da quel punto di vista nessuna nessuna difficoltà però si sta cercando un accordo con il gremio ma siamo di fatto al dentro fuori entro l'inizio della prossima settimana il gremio deve dare una risposta o positiva o negativa l'alternativa italiana è rappresentata da Perisan portiere dell'Empoli che appena preso Caprile in prestito dal Napoli e poi c'è un'altra pista estera sempre sondata dal direttore sportivo Polito per quanto riguarda la porta invece per quanto riguarda il ruolo di Terzino in questi giorni parlavamo anche di Falasco è una trattativa che resta in piedi ci sono novità o no Cristian beh nei giorni scorsi ha raggiunto il ritiro di Roccaraso proprio il procuratore di Falasco che di fatto lo ha proposto al Bari un calciatore attenzionato è un profilo che comunque piace perché il Bari deve acquistare un altro Terzino sinistro al momento c'è solo Giacomo Ricci in rosa così come piace dichiara Terzino sinistro della regina in questo caso bisogna vedere poi la fine anche del club Amaranto quindi al momento questi sono due profili che potrebbero fare al caso del Bari Per gli epilogari Cristian quanti movimenti dovrà fare ancora il Bari secondo te Tanti sicuramente ci saranno almeno 8-9 acquisti il portiere un Terzino sinistro due interni di centrocampo 3-4 anche uomini offensivi tra attaccanti e trequartisti le operazioni saranno tante poi a quanto ci risulta Polito sta cercando anche un giocatore mancino che possa giocare a destra in un 4-2-3-1 con Morachioli dalla parte opposta per dare anche delle alternative tattiche a Mignani al solito 4-3-2-1 4-3-1-2 quindi sta cercando un altro esterno offensivo per giocare a piedi invertiti Morachioli alla sinistra e questo calciatore mancino a destra al momento chiaramente non lo abbiamo ancora individuato però sta sondando il mercato Polito per cercare un calciatore con quelle caratteristiche Sì Roberto era sempre il problema che ci diceva Mignani sì ho l'esterno Morachioli da una parte però non ho la controparte dall'altro lato io penso che quest'anno sicuramente tra le note che potrebbero essere migliori dello scorso anno c'è l'esperienza di Mignani perché Mignani l'anno scorso ovviamente essendo un esordiente ha fatto dei passaggi da esordiente in questo senso una maggiore sicurezza di se stesso significa anche per esempio imporsi sul mercato anche con idee diverse e innovative mi fa piacere che io avevo detto 5 acquisti importante mi fa piacere che dice 8-9 io continuo a tifare per Diuric il mio pallino il gigante Diuric quello che ti alleggerisce le partite difficili ha salvato non dico da solo ma quasi insieme a quell'altro fortissimo il Verona in un'annata in cui il Verona era inguardabile buttavi la palla avanti e arrivava sempre sempre tutta la partita chi sa giocatore fastidiosissimo giocatore fastidiosissimo lì davanti e tra l'altro è lo stesso procuratore Roberto Di Falasco che qualche giorno fa era qui in ritiro a parlare con Polito al momento il nome non ci risulta però poi non è escluso che abbiano parlato anche di lui però è un giocatore forte c'è entra avanti forte uno di quei calciatori che di sicuro lì davanti ti dà una mano magari non fa tanti gol però le prende sempre lui di testa non gliela togli non è una cosa che mi risulta è una mia speranza personale non mi risulta proprio niente il procuratore è lo stesso di Falasco quindi magari una chiacchiereata l'ha fatta e non lo sappiamo perché chiaramente poi Polito non può ovviamente scoprire tutte le sue carte però staremo a vedere un profilo che anche a me piacerebbe perché in Serie B darebbe davvero una grossa mano giocatore forte a proposito di attaccanti Cristian ad oggi la situazione di Chedira ancora tutto fermo ancora tutto fermo si attende l'offerta giusta perché il calciatore ha comunque manifestato la voglia di giocare in Serie A ci sono stati i team di sondaggi Empoli Genoa Torino però nessuno alla fine ha presentato un'offerta concreta al Bari quindi per il momento il giocatore in ritiro si allena lo sta facendo sempre con grande disponibilità sempre con il sorriso quindi le alternative praticamente sono due o il calciatore viene ceduto se non dovesse esserci un'offerta soddisfacente per il Bari il calciatore deve per forza di cose ripartire da qui in quel caso però sicuramente si andrebbe verso un adeguamento del contratto da un punto di vista economico oltre chiaramente ad un allungamento dello stesso al momento il calciatore in uscita però se non dovesse concretizzarsi nulla è chiaro che il Bari dovrà attrezzarsi poi per far ripartire che dirà da Bari con un'altra volle con un altro spirito Jessica vengo da te se ci sono messaggi Sì tantissime domande riguardo al calciomercato tra l'altro avanti ieri abbiamo visto Faloruncio qui a Bari c'è una foto nella quale lui effettivamente sta con il figlio di Bellomo molti tifosi non perdono la speranza davvero non si potrebbe fare nulla Polito non potrebbe magari non lo so sorprenderci andando a ripescare qualcuno di giocatore che magari ha già giocato con noi si potrebbe ripescare Foloruncio questo è il senso insomma della domanda Foloruncio no perché Foloruncio anche lui vuole giocare in Serie A e soprattutto ormai è prossimo ad indossare la maglia del Verona però Polito continua a monitorare la situazione di esposito dell'Inter di Benedetti della Sampdoria al momento al momento non c'è alcuna possibilità magari di portarle a Bari però andando avanti con il mercato le cose potrebbero cambiare quindi io credo che in quest'ottica Polito voglia aspettare perché se ci sarà uno spiraglio proverà a riportare sia Esposito che Benedetti a Bari quindi su questo non ci sono dubbi perché poi i due calciatori hanno più volte manifestato la loro voglia di ripartire da Bari e di continuare la loro avventura in bianco rosso chiaramente al momento i presupposti non ci sono però andando avanti con il mercato si potrebbero incastrare altre situazioni e Polito è pronto a tornare alla carica quindi staremo a vedere di sicuro non si farà cogliere in preparato da questo punto di vista Polito perfetto noi siamo in chiusura Cristian ricordiamo l'appuntamento per domani perché poi il Bari domani giocherà l'amichevole in famiglia e poi insomma andrà via quindi ricordo anche ai nostri telespettatori noi andremo in onda in diretta alle 14.30 come il classico TV Sport in ogni caso capisco che ora il tifoso Michele voglia vedere subito acquisti ci sta è stato ceduto Caprile quindi c'è una maggiore anche liquidità sul mercato serve ancora un po' di pazienza io sono convinto che in ogni caso si costruirà un Bari competitivo un Bari che stia lì tra le 6-7-8 squadre che poi andranno a giocare il campionato su questo non ho dubbi e in queste ore ho visto un Polito nuovamente più determinato più carico e più voglioso poi di andare a completare questa squadra quindi manteniamo la fiducia a fine mercato tiriamo le somme però sono sicuro che si andrà a costruire un Bari competitivo per quanto riguarda domani l'allenamento e la partitella in famiglia si giocherà alle 11 chiaramente sui nostri canali social vi mostreremo anche degli spezzoni in diretta e poi alle 14.30 anche con le voci qui da fine ritiro da questo ritiro di Roccaraso e poi chiaramente da lunedì si torna in sede lunedì pomeriggio è fissato l'allenamento al campetto dell'antistadio perfetto io ringrazio il nostro Cristian Siciliani buona serata Cristian ciao ciao buona serata a voi buona serata a voi grazie anche Roberto Maffei per essere stato con noi grazie alla nostra Jessica Ramos grazie anche a voi per la cortese attenzione l'appuntamento con Gioco di Squadra torna in diretta domani alle 14.30 ciao 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 ciao